Bianconeri, sulle cente, la Fanta Juve! La Juve è fede, amore e passione. Seguila con lo Juventus Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Stal. Sesta giornata di campionato, sabato 28 settembre, ore 15. Ci trovi a Lizzano, in piazza Matteotti, 22. Per info e contatti, Antonio 348 808 803. Cristian 349 68 000 66 Giuseppe 347 04 17 623 E grida con noi, forza Juve fino alla fine!